E rientro, alto, due, e rientro, lui si aspetta alto, scendo basso, pan, uno, due, quindi la parata è sempre all'interno, è sempre questo, attacco alto, attacco basso, sempre questo, giro, basso, alto. E' ovvio che se vado sotto qui non sono più coperto dal braccio che è tanto, quindi questa mano non mi devo prendere, qui, ecco perché la mano qua, se vado alto sono coperto dal mio stesso braccio, la metto lo stesso ma sono più sicuro, ma questo va insieme, l'altra serie è questa, lui attacca, parlo fuori e rientro, e vado basso, entro qua, da sopra eh, che non l'abbiamo mai fatto, montante, ok? Quindi, uno, senza altro, questo, questo è il suo velocità eh, qui, questo è un giro, 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 Grazie a tutti.